Ciao, il prossimo 23 settembre al Green Loop Festival di Fermo ci sarà una proiezione speciale di Materia Viva, il docufilm sul rapporto tra uomo, tecnologia e ambiente, prodotto da Erion Wee insieme a Libero Produzioni Televisive. L'appuntamento è gratuito e aperto al pubblico, 23 settembre sabato a partire dalle 17.30 presso il Cinema Sala degli Artisti di Fermo. Non mancate e facciamolo circolare! Grazie a tutti!